Carlotta Mantovan sembra aver ritrovato l'amore. L'ex Miss Italia, nonché vedova di Fabrizio Frizzi, è stata ripresa dal settimanale Diva e Donna, sul litorale romano, a Maccarese, dove passeggia insieme alla figlia Stella. Al suo fianco c'è l'uomo con il quale pare abbia trovato una nuova felicità. Le foto pubblicate sul settimanale ritraggono l'ex ballerina di Ballando con le stelle. Sorridente e spensierata, intenta a giocare in riva al mare, tenendo tra le mani la bambola di sua figlia Stella, anche lei divertita da quella giornata trascorsa in completo relax. Sono immagini che raccontano una ritrovata serenità, che arriva dopo sei anni dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi. Un evento doloroso per una famiglia venutasi a formare da poco e che avrebbe avuto bisogno di più tempo per consolidarsi. costruire più ricordi insieme, sebbene non sia mai mancato l'amore del nuovo compagno, oltre al fatto che sia francese, non si sa molto, ma sembra che sia riuscito a restituire la felicità all'ex Miss Italia. Da quando è scomparso Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovanna ha provato a mantenere la sua vita privata lontano dai riflettori. Ed è anche per questo motivo che ha deciso di trasferirsi in Francia. Lì, infatti, con sua figlia conduce una vita tranquilla. In una cittadina al nord del paese. In cui ha trovato finalmente aria di casa. Come mostra anche sui social pubblicando scatti di alcuni paesaggi. Immersi nel verde e sempre a contatto con la natura. Gli animali. Dalla Francia torna in Italia saltuariamente. Anche se per partecipare allo show di Rai 1. Condotto da Millie Carlucci. Ha trascorso a Roma un bel periodo di tempo. Affinché potesse prendere parte alle varie puntate di cui è stata protagonista. Un ritorno inaspettato. Che la 41enne ha vissuto con estremo entusiasmo. Grazie. 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 Grazie.